Il Novara Football Club chiude il 2023 con un successo sul club Milano, 3-0, matricola del girone B della Serie D, che gioca a Pero, dodicesima al termine del girone di andata. Allenamento congiunto al Piola, deciso già nel primo tempo dal gol del difensore Bonaccorsi, dodicesimo, e dalla doppietta in tre minuti del centrocampista di Munno, venticinquesimo e ventottesimo, Gattuso ancora senza i... Abbonati a soli 9,90€ all'anno! Gioielleria Rossi, il nuovo negozio in via Briona a Domodossola.